Cosa posso fare per lei? Ferruccio Lamborghini. Ha presente chi sono? Sa, tutte le mie Ferrari hanno un problema. La frizione. Potrei risolverlo se lei valutasse una partnership Ferrari e Lamborghini. Torni ai suoi trattori, contadino. A cosa pensi? Penso a una macchina che ancora non esiste, che sia forte e potente come un toro. Con questa macchina il mondo si dimenticherà della Ferrari. Lamborghini è la novità della prossima stagione automobilistica. Con i sogni non si costruiscono macchine, Ferruccio. Non mi piace quello che stai facendo. Rischiamo di perdere tutto. Ti prego. L'unica cosa che conta nella vita. Sei tu, il grande Lamborghini. Che cosa vuoi che faccia? Sa cosa dicono di lei, Lamborghini? Che è troppo ignorante per capire cose che non sa. La Lamborghini 350 GT deve essere veloce come una macchina da cossa. Deve essere l'auto più bella che il mondo abbia mai visto. Tra sei mesi tutti saranno a Ginevra per vedere la nuova Ferrari, ma quello che troveranno sarà la prima Lamborghini. Compri una Ferrari quando vuoi essere qualcuno. Compri una Lamborghini quando sei qualcuno. Cosa disegna? Lei cosa vede? Vedo delle linee. Lei cosa vede? 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 Lei cosa vede?